A Wall Street in Europa si compra ancora o si vende? Vediamo cosa ci dicono gli esperti di House of Trading. Se mi parli invece della prima carta ragionerei di oro. L'oro ha appena fatto la violazione della barra delle 3.45 di questa mattina che era un minimo a 1955,9. Con quella violazione di minimo siamo arrivati appunto a una durata di ciclo che è il controllo in questo momento di 19 bar. Quindi noi sappiamo che potremmo andare a cercare un successivo minimo almeno fino alla 24esima barra delle ore 21 e in media fino a quella della 32esima delle ore 3.45. Al massimo cercare sempre questo minimo fino a quella delle 12.45 di domani e per questo motivo ho dato un target di movimento. Il target di movimento peraltro è semplice, quello del raggiungimento del minimo precedente della candela verde che vedete appunto adesso indicata nel grafico la 1,2,3, la quarta esatto a partire da destra, praticamente da destra verso sinistra la quarta da cui è partito un altro ciclo. Se andassimo sotto il minimo di quella candela, ok, di quella del abbiamo detto 15.6 e noi avremo un altro vantaggio sempre relativo al tempo. Se ci andassimo oggi, per esempio, saremmo soltanto a 3 giorni su minimo 6 di possibile discesa complessiva. In media 8 giorni, al massimo 11 giorni. Quindi potremo andare non soltanto sotto il target che è stato dato durante la strategia, ma proseguire e continuare a poter seguire appunto in trailing la discesa. Dobbiamo soltanto fare attenzione alla risalita che ci può essere ed è per quello che il trader ho preferito che si attivasse ritornando sotto il minimo a 1940 più o meno appunto come area, in modo che se anche valutasse di fare un rimbalzo, prima comunque che arrivi la 24esima barra si può tranquillamente continuare ad andare short e ragionare eventualmente di una posizione short anche di medio periodo. Per quella però preferisco, nella realtà di fatti, ragionare ovviamente di movimento in movimento, di onda in onda, per il fatto che non abbiamo ancora un vincolo sul ciclo settimanale, quello che è partito appunto dalla quarta barra a partire da destra verso sinistra. Per questo motivo, se dovessimo appunto andare sotto i 1936,1, a quel punto, come detto, potremmo andare avanti a prendere short e a shortare i top eventualmente, piramidando la posizione se fossimo già in game. Quindi mancano i livelli a questo punto, che vediamo, Regia ha messo in onda, una leva frizzante, ingresso a 1941,20, altri livelli? Diceli tu, vai! Sì, ho messo una leva simile a quella che utilizzo solitamente per i future, la cosa bella è che con i certificati si possono evitare le problematiche che ci sono magari quando il mercato è più sattile e quando ci sono appunto soltanto i future, l'ingresso è a 1941,20 dollari, lo stop è alto, ma attenzione, anche in questo caso con l'analisi evoluta non funziona più il discorso del risk reward, perché? Perché mediamente se entra l'operazione si può poi ragionare anche di utilizzare take profit per portarla avanti, per proteggere ovviamente il livello non si aspetta di andare in stop a 2.010, se invece non entra, non inizia neanche appunto l'operazione. Il target di base è a 1.936 dollari, il discorso è che stiamo cercando di vedere se sul grafico a candele giornaliere, che cosa sta partendo dal massimo assoluto? Perché per adesso con 31 barre, dunque ricontrollo un attimo il grafico, con sì, 31 barre sotto il massimo assoluto fatto il 4 di maggio, per ora abbiamo la conferma che possa partire un ciclo semestrale di inverso, che quando chiuderà i suoi primi mensili inversi e trimestrali inversi con dei rialzi, fa una sorta di baffo sostanzialmente così, ok? A quel punto poi ci darà nuovo impulso per una discesa. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17.30 a House of Trading.